Non è una cosa che può affrontare il Comune di Catania, è una cosa che bisogna affrontare a livello di legislazione nazionale. Io sono assolutamente convinto che il problema va affrontato, non con l'ipocrisia con cui lo si affronta adesso, in cui la prostituzione da una parte è vietata e dall'altra al contrario viene tollerata per le strade in una condizione spesso drammatica, con tutto quello che c'è di sfruttamento assolutamente inaccettabile. È un tema che secondo me è immaturo, che si è affrontato a livello serio e naturalmente a livello di Parlamento, come naturale e doveroso. Io intanto sono per la verificazione di questo quartiere e intanto per dare una mano perché questo quartiere torni a vivere con tutte le sue anime e con tutte le sue forme.